Sette premi intitolati alla memoria di altrettanti grandi personaggi dello sport e assegnati ai protagonisti dello sport attuale, nelle stesse discipline. È un'idea semplice ma geniale, quella che sta alla base del Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino, la cui terza edizione, in programma giovedì 8 marzo alle 21 al Teatro Spina, è stata presentata questa mattina nel Palazzo Comunale. Per capire la portata dell'evento basta scorrere i nomi dei premiati. Premio Mario D'Agata a Orlando Fior di Giglio, Premio Vigor Bovolenta a Lorenzo Lollo Bernardi, Premio Alfredo Martini ad Alessandro Petacchi, Premio Fabrizio Meoni a Stefano Passeri, Premio Federico Luzzi a Lorenzo Musetti, Premio Bruno Beatrice a Paolo Maldini e Premio Corrado Viciani a Carlo Ancelotti. Mettere assieme così tanti personaggi di primo piano in una realtà come Castiglion Fiorentino rappresenta una sorta di piccolo miracolo, come spiega il sindaco Mario Agnelli. Il miracolo credo che in vita lo hanno fatto i nomi di coloro a cui vengono assegnati questi premi e di conseguenza in tre anni siamo riusciti ad avere personaggi di altissimo profilo, basti pensare che nel calcio abbiamo già premiato Buffon, Lippi, Sacchi e quest'anno con Ancelotti e Maldini e tutte le altre discipline sportive per cui non voglio fare distinzioni siamo sicuramente in una fascia molto alta. C'è chi sceglie, io dico con una battuta, di dare degli Oscar a dei politici, io gli Oscar preferisco darli a coloro che probabilmente sono da Oscar nel loro mondo, quello dello sport. Quindi palcoscenico delle grandi occasioni, quello di giovedì sera. Se consideriamo che poi tutto questo avrà un fine ultimo che è quello di devolvere l'incasso della serata alla nostra confraternita di misericordia che oggi garantisce anche lo svolgimento di talune attività sportive credo che abbiamo chiuso un cerchio. A supporto dell'iniziativa sulla base di una sensibilità della multi utility pubblica per lo sport c'è Estra, il cui presidente Francesco Macri si è fatto promotore anche della realizzazione del premio da consegnare. È frutto di un vero e proprio progetto di Estra, del Comune Castiglioni, della ditta di Gabriele Veneri e dell'Istituto Margaritone, dei ragazzi del nostro istituto Orafi che hanno collaborato per progettarlo e insieme alla ditta Orafa l'hanno realizzato. Quindi una bella storia anche di alternanza scuola lavoro. Alcuni biglietti per la serata sono ancora disponibili al costo di 10 euro presso la sede della misericordia di Castiglione Fiorentino.